Perché devo presentare i musicisti, mi hanno detto. E quindi rifacciamo le presentazioni, visto che siamo comunque anche all'ultimo brano. Quindi abbiamo Adriano Pancadi ai sassofoni, Roberto Reghini alle trombe, Nicola Morale alle tastiere, Claudio Buonora alla batteria, Luca Gattelli al basso, sei corda, Peglio alla chitarra, Dario Buonora, con sei corda, anche lui. Io sono Paolo Buonora, ok? E adesso cantiamo tutti insieme! Grazie! 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 qui vieni, raccolti e la cugina finale di nuovo va via, va via, va via, va via, vuoi spaga, va via, va via, va via, va via, va via via ok, lancia la metà va via, via via, via via, via via, via 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 Oh, Padilla, Padilla, Padilla. Voglio fare le campaneele ancora? Padilla, 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 Padilla. Difficile! Ultima gira! Grazie, grazie, grazie A presto Grazie, grazie, grazie